Scarsa qualità del servizio per l'ufficio postale di San Marco, a lamentare il disservizio i tanti cittadini del posto, a mettere in risalto la problematica in una lettera inviata al sindaco di Castellabate e alla direzione provinciale di posti italiani di Salerno, è stato anche il capogruppo di opposizione del comune di Castellabate Alessandro Lo Schiavo. Facilitare la vita dei cittadini, migliorare i servizi postali offerti da posti italiane nel comune di Castellabate è il senso della mia nota, della mia lettera indirizzata alla direzione provinciale di posti italiane e per conoscenza al sindaco del comune di Castellabate. Tantissimi concittadini mi hanno segnalato le criticità che si registrano nella quotidianità, nel vivere, nel usufruire di servizi erogati dallo storico ufficio di San Marco di Castellabate, un ufficio molto importante che racchiude un bacino d'utenza che non guarda semplicemente al comune di Castellabate ma che abbraccia i comuni limitrofi, San Marco tra l'altro è sede di scuole di ogni ordine e grado, di un ufficio comunale, di una realtà imprenditoriale commerciale consolidata dal tempo e quindi parliamo di un bacino di utenza molto ma molto importante che merita rispetto, che vuole servizi celeri puntuali che rispondano alle reali esigenze della platea. Invece abbiamo un ufficio a mezzo servizio con una sola unità lavorativa presente tutti i giorni affiancata da una seconda unità lavorativa che viene nei quindici giorni, dal sedicesimo giorno in poi per essere più precisi. Sappiamo tutti che nei primi di ogni mese si pagano le pensioni, l'addetta allo sportello è contemporaneamente direttrice è colei che paga le pensioni, che paga i tributi, le utenze, che riceve un pacco da spedire, che fa un bonifico, che apre un conto, che apre la porta ai vigilantes che portano i valori bollati, che risponde al telefono, che dà informazioni ai cittadini. Cioè in una sola persona si devono raccordare tutte queste mansioni e questi servizi e poi viene penalizzato l'interlocutore finale, cioè colui che dovrebbe essere il beneficiario dei servizi offerti da Posto Italiano, cioè il cittadino, cioè l'utente, che deve registrare tempi di attesa lunghissimi, che non ha privacy durante un'operazione allo sportello, che deve resistere in spazi angusti, non esiste un ticket eliminacode, cioè si vive al limite del paradosso. Noi facciamo presente a Posto Italiano tutte queste manchevolezze, tutte queste disattenzioni. Tra l'altro alcuni cittadini mi dicevano anche della mancata consegna della corrispondenza in alcune zone di San Marco, più periferiche chiaramente. Magari questo è da imputare anche all'assenza dei numeri civici in tante parti del comune di Castellabate. A suo tempo avevamo riviato un discorso di toponomastica. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale, il sindaco, riprenda questo discorso. Quindi, voglio dire, Poste deve entrare nel merito della questione. Per un esterno elettuale dico anche che rispetto ad una mia precedente nota per la mancata consigna della corrispondenza a un determinato numero di famiglie, nuclei familiari alla frazione puntalicosa, il problema è stato risolto. Quindi ci auguriamo che anche in questo caso intervenga prontamente laddove non dovessimo registrare un miglioramento siamo pronti anche a raccogliere le firme dell'utenza della cittadinanza del comune di Castellabate e intraprendere tutte quelle azioni che possano permettere al cittadino di poter avere un servizio che risponda alle reali esigenze delle popolazioni e dell'utenza più in generale. Grazie.